Agrigento ci riprova, per la seconda volta si candida a diventare capitale italiana della cultura 2025. Una iniziativa avviata dal sindaco Francesco Micichè, sostenuta da enti e associazioni che operano nel territorio, a cominciare dal consorzio universitario della provincia di Agrigento, presieduto da Nenè Mangiocavallo. L'iter è già stato avviato. È già partito da un bel po' di tempo. Il sindaco ha già avviato le procedure per presentare ufficialmente entro il 31 maggio, come previsto dal bando, la candidatura di Agrigento e del suo territorio capitale italiana della cultura per il 2025. È una opportunità particolarmente rilevante che si offre alla meravigliosa città di Agrigento e al suo meraviglioso territorio, non tanto per quello che ha rappresentato e non solo per quello che ha rappresentato nel passato, ma anche e principalmente per quello che può rappresentare nel futuro, sia sul piano turistico, sia sul piano economico, sia sul piano culturale, sia cosa non trascurabile come porta del Mediterraneo. Vero è che l'attrattiva della capitale italiana della cultura è mondiale, internazionale, ma riteniamo che questa possa essere una nuova opportunità per riproporsi come porta del Mediterraneo con tutte le conseguenze positive che ne possono derivare. La scadenza a fine mese, ma già giovedì prossimo, la candidatura di Agrigento sarà ufficializzata nel corso di una manifestazione. Sarà ufficializzata questa candidatura il prossimo giovedì, il 19 maggio, presso l'ex Collegio dei Filippini ad Agrigento e ci auguriamo che ci possa essere un coinvolgimento corale delle istituzioni, delle associazioni, del mondo imprenditoriale particolarmente attivo in questa provincia e anche e principalmente di tutti i cittadini che devono sentirsi parte integrante, protagonisti di questa candidatura che, lo ripeto, non è soltanto delle istituzioni, ma che è principalmente dei cittadini di questa provincia che esprimono delle potenzialità straordinarie e che meritano il premio che ci auguriamo di poter ottenere di Capitale Italiano alla Cultura del 2025. Una grande opportunità per Agrigento e tutto il suo territorio. È importante per una serie innumerevole di motivi, per quello che rappresenta sul piano economico, per quello che rappresenta sulla proiezione futura, ma principalmente perché è un tributo che l'Italia deve pagare alla bellezza, alla straordinarietà del paesaggio, alla capacità di espressione nel mondo del teatro, dell'arte, e dello spettacolo, della letteratura, che Agrigento è rappresentato in passato, ma che principalmente dovrà rappresentare nel futuro. Viva Agrigento, Capitale Italiano alla Cultura per il 2025.